Adesso c'è un po' di delusione, è normale, penso che domani ci sarà più serenità, forse anche di sapere che abbiamo fatto una grande prestazione, sono orgoglioso di nostra squadra, di Bergamo, di tutti, però adesso c'è delusione, se sei così vicino fa ancora più male secondo me, abbiamo sentito la semifinale, poi 10 secondi alla fine abbiamo preso il gol e poi anche il secondo gol, avevamo un po' troppo delusi dopo il gol subito, però adesso non ci sono parole, sono un po' in difficoltà, però voglio dire che sono molto orgoglioso e fiero di questa squadra. Orgoglioso e fiero Martin Deron, ma sono orgogliosi e fieri i bergamaschi, i tifosi dell'Atalanta e non soltanto loro, perché davvero avete fatto una figura eccezionale, avete fatto una bellissima partita, dispiace come hai detto tu uscire così, ma l'Atalanta esce a testa altissima. Sì, sì, domani e dopo domani ci saranno più, siamo più sereni, certo siamo fieri anche di nostra città, di Bergamo, i bergamaschi, tutti insieme abbiamo fatto, abbiamo avuto un anno molto difficile, siamo stati in grande difficoltà con il Covid, però i bergamaschi non molano mai, anche noi non moliamo mai, l'anno prossimo riproveremo di ripetere tutto.